Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi rispondo alla domanda che mi è stata fatta più spesso in assoluto sull'adozione, ovvero come fare a estendere la propria disponibilità all'adozione a tutti i tribunali d'Italia. Perché sì, voi fate la vostra domanda di adozione al tribunale della vostra regione, tutto parte da lì, ma dopo non è che il tribunale della regione condivide i dati della coppia, le sue disponibilità, le varie relazioni che sono state fatte con gli altri tribunali, in modo da avere una sorta di database generale di tutta Italia con tutte le coppie che sono in attesa e poter quindi abbinare un bambino ad una coppia indipendentemente dalla regione di appartenenza. No, non è così, perché questo sarebbe troppo semplice e troppo rapido, siamo in Italia, ricordiamocelo. Quindi assolutamente no, il lavoro deve essere tutto nelle mani della coppia che sta adottando. Direi quindi che è il caso di capire come fare per estendere la propria domanda di adozione, visto che sono tante tra di voi le coppie che si chiedono come poter fare. Visto che la spiegazione è più lunga di un messaggio scritto su Instagram, ho pensato di girare direttamente un video per spiegarvi tutto. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo, partiamo dall'inizio. Come ho detto, il primo passo è quello di presentare la propria disponibilità all'adozione nazionale e anche internazionale, se lo desiderate, presso il tribunale della vostra regione. Nel mio caso, chiaramente lo capirete, era la Toscana. Soltanto dopo aver terminato il percorso presso il proprio tribunale, quindi non solo aver avuto gli incontri con assistente sociale e psicologa, ma avere anche le relazioni, aver avuto soprattutto l'udienza con il giudice e l'eventuale idoneità all'adozione internazionale, è possibile dedicarci poi a tutti gli altri tribunali d'Italia. Ogni regione ha almeno un tribunale per i minorenni, dove poter presentare la propria domanda di adozione. E vanno contattati uno per uno singolarmente. Questo deve essere chiaro e quindi vi anticipo fin da subito che è un lavoro grande. È un lavoro impegnativo ed è un lavoro che dura per un po'. Quindi bisogna armarsi di pazienza e cercare di fare tutto passo passo. Partiamo da come contattare i vari tribunali. Il mio consiglio è prima di tutto di entrare sul sito del tribunale al quale volete estendere la vostra domanda di adozione e cercare nella sezione adozione la modulistica. Qui di solito in quasi tutti i siti hanno inserito i documenti da scaricare e da compilare per poter estendere la propria domanda di adozione. Quindi trovate proprio una bella lista dei documenti. Se il sito è fatto bene, il tribunale ha lavorato bene, trovate già tutto lì. Compreso anche l'elenco dei documenti aggiuntivi che dovete allegare e inviare al tribunale. Se nella sezione modulistica del sito non trovate niente, a quel punto contattate direttamente il tribunale per email o per telefono. Cosa che io sconsiglio di fare per questo che dico partite prima dal sito perché i tribunali per esperienza o sono stata sfortunata ma non credo rispondono raramente sia alle email che alle telefonate quindi bisogna insistere veramente tanto. Quindi se trovate già tutto online è sicuramente più semplice. Passiamo adesso ai documenti necessari da inviare ai vari tribunali. Ci sono alcuni documenti che vogliono tutti i tribunali mentre altri documenti sono necessari soltanto in alcuni tribunali. Questo perché sempre perché siamo in Italia e quindi ogni tribunale lavora in maniera completamente indipendente e quindi può chiedere tutto quello che vuole indipendentemente da quello che fanno gli altri. Quindi i documenti che di solito chiedono sempre sono la disponibilità all'adozione, quindi un modulo da compilare in cui si dichiara che la coppia è disponibile all'adozione di un minore e poi le relazioni di assistente sociale e psicologa, il verbale dell'udienza, l'eventuale idoneità e i documenti di identità. Per quanto riguarda invece i documenti richiesti da alcuni tribunali, questi sono veramente vari. Potrebbe essere ad esempio il certificato di matrimonio, il certificato di residenza, lo stato di famiglia, una dichiarazione da parte dei genitori della coppia in cui dichiarano che sono d'accordo con l'adozione e l'appoggiano, alcune visite mediche o il certificato di sana e robusta costituzione. Insomma, ci sono una varietà infinita di documenti che potrebbero essere richiesti da alcuni tribunali e quindi necessari per proseguire il percorso con loro. Ad esempio, un altro documento che alcuni tribunali chiedono è una sorta di questionario da compilare in cui la coppia dichiara le proprie disponibilità all'adozione, quindi ad esempio la fascia d'età del bambino o la disponibilità ad accettare certe malattie o certe, non so, situazioni particolari, eccetera. Insomma, come spedire la documentazione? Beh, di solito quasi tutti i tribunali vogliono la raccomandata, quindi preparatevi a stampare tanti fogli, a fare tante fotocopie e poi mandare tutto per raccomandata. Quindi preparatevi anche a spendere un po' di soldi. Questo perché io credo che in Italia ci sia solo un tribunale che accetta la PEC per quanto riguarda le estensioni, della domanda di adozione, però potrei sbagliarmi, ma tendenzialmente vogliono tutti una copia cartacea mandata per raccomandata, quindi anche lì armatevi di pazienza, prendete tutti i documenti, metteteli insieme e spedite tutto per posta. Ok, proseguiamo il nostro percorso. Diciamo che avete controllato i documenti che vogliono i vari tribunali, avete compilato tutto, avete recuperato tutto quello che andava chiesto e spedito tutto per posta. Bene, adesso che cosa succede? Semplicemente i tribunali ricevono la documentazione e la maggior parte di questi, se è tutto ok, quindi se non deve contattarvi perché manca qualche documento o qualche informazione, di solito semplicemente crea una pratica, ecco, relativa alla vostra domanda di adozione e vi inserisce tra le coppie in attesa di un abbinamento. Alcuni tribunali d'Italia richiedono un colloquio conoscitivo e senza questo colloquio non è possibile proseguire nel percorso adottivo all'interno di quel tribunale, nel senso che alcuni tribunali vogliono per forza conoscere le coppie fuori regione che si propongono per un'adozione prima di poterle prendere effettivamente in considerazione per un abbinamento. Il mio consiglio è assolutamente di andare a questi incontri conoscitivi ovunque siano in Italia perché parliamoci chiaro oggi è possibile raggiungere qualsiasi parte d'Italia con un aereo o con un treno e al massimo vi porterà via due giorni però fatelo perché vi si apriranno chiaramente delle porte. Io vi dico che è grazie a un colloquio conoscitivo che sono stata presa in considerazione per Katia e quindi è grazie a questo che ho adottato quindi questo per farvi capire quanto è importante. Altra cosa che alcuni tribunali fanno e altri no sono i colloqui invece comparativi ovvero c'è un bambino o una bambina che deve essere adottato si deve trovare una coppia adatta per questo bimbo o questa bimba alcuni tribunali chiamano, trovano la coppia tra quelle che hanno a disposizione diciamo e la chiamano dicendo che c'è un abbinamento quindi è un abbinamento diretto. Altri tribunali invece preferiscono aggiungere sofferenza e ansia e trepidazione a queste coppie che già tante ne hanno affrontate e fanno quelli che si chiamano dei colloqui comparativi. Molti di questi tribunali neppure lo dicono esplicitamente quello di Firenze non lo dice neppure per esempio chiama una coppia dicendo dobbiamo aggiornare il fascicolo venite il tale giorno alla tale ora e chiaramente ormai nei gruppi di adozione se ne parla e tutti lo sanno ma loro non dicono assolutamente che ci potrebbe essere un abbinamento quindi fanno tutto un po' di nascosto chiamano 4-5 coppie e fanno dei colloqui in una giornata di solito si esauriscono quindi una coppia dietro l'altra per poi decidere tra queste coppie quale effettivamente abbinare a un bambino. Perché dico che questa cosa fa soffrire? Perché tante coppie per l'appunto arrivano lì con grandi aspettative un po' perché immaginano che ci sia un bambino o una bambina in attesa e un po' perché in ogni caso se viene chiamato da un tribunale per un aggiornamento alcuni addirittura vengono chiamati dopo pochi mesi dall'udienza insomma diciamo che il sospetto che ci sia un abbinamento in vista c'è e queste coppie magari aspettano da tanto sono enormemente emozionate e rimangono magari dopo questo colloquio comparativo diversi giorni in attesa con il telefono sotto mano sperando di essere ricontattati quindi insomma io non sono molto d'accordo con questo genere di approccio però tant'è questo è quello che fanno andiamo avanti un'altra cosa che alcuni tribunali fanno e altri no è quella di prendere in considerazione le coppie da fuori regione questo perché alcuni tribunali preferiscono fare gli abbinamenti con coppie della propria regione quindi difficilmente diciamo quasi mai chiamano coppie che provengano da altre parti d'Italia mentre altri tribunali lo fanno più spesso alcuni tribunali lo fanno quasi sempre dipende dalle situazioni che si trovano a dover affrontare un bambino che ha necessità di allontanarsi dal posto dove è nato probabilmente verrà abbinato a una coppia che abita lontano che abita da un'altra parte comunque indipendentemente da quali tribunali sono più propensi a chiamare le coppie fuori regione o meno il mio consiglio è comunque di estendere la domanda a tutti ormai che ci siamo ormai che siamo in ballo balliamo quindi siamo dietro a fare documenti e a spedire tutto facciamolo con tutti semplicemente perché non si sa mai nella vita magari c'è anche in un tribunale in cui di solito le coppie fuori regione non vengono prese in considerazione potrebbe esserci quel caso isolato dove invece viene scelta una coppia che abita più lontano e potreste essere voi per l'appunto quindi il mio consiglio è di farlo con tutti infine l'ultimo paio di informazioni alcuni tribunali vi fanno sapere di aver ricevuto la vostra documentazione che è tutto ok magari vi danno anche il numero di pratica con cui è stata registrata la vostra domanda altri invece non si fanno sentire il mio consiglio in questo caso è dopo un po' che avete mandato tutte le domande se non avete sentito niente provate a ricontattare questa volta magari per email o per telefono i vari tribunali chiedendo il numero di pratica soltanto questo vi darà la certezza di essere veramente stati inseriti nell'insieme delle coppie che sono in attesa in quel tribunale e poi avrete la certezza che i documenti sono arrivati che è andato tutto bene che non mancava niente di particolare insomma i tribunali non lavorano tutti benissimo e a volte è complicato averci a che fare ci vuole tanta 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 pazienza non tutte le persone che lavorano nel tribunale hanno la stessa pazienza hanno la stessa capacità di capire le coppie adottive e si possono trovare spesso persone maleducate o che non hanno assolutamente voglia di fare il loro lavoro non tutti chiaramente però può succedere voi non vi arrendete mai il mio consiglio è sempre questo quando sapete di fare la cosa giusta fatela se non vi rispondono alle mail riscrivete se non rispondono al telefono chiamate 20 volte però alla fine devono rispondervi perché è vostro diritto conoscere lo stato della vostra pratica ultima informazione le domande di adozione nazionale inviata agli altri tribunali hanno la stessa validità di quello del vostro tribunale quindi 3 anni 3 anni dal momento in cui gliel'avete inviata quindi vi faccio un esempio voi avete fatto la domanda di adozione presso il vostro tribunale nel 2020 se nel 2021 la estendete ad altri tribunali d'Italia in quei tribunali varrà 3 anni dal 2021 quindi dal momento in cui gliela presentate quindi anche lì tenete un po' le fila di quali sono le date in cui avete mandato i documenti in modo da poter controllare quando saranno scaduti 3 anni a chi rinnovare la domanda di adozione bene io credo che questo sia tutto spero di essere stata esaustiva se avete altre domandine scrivetemele nei commenti guarderò di rispondere il prima possibile ma se mi sono dimenticata qualcosa anche quello scrivetelo sotto perché così le persone possono integrare le informazioni che ho dato io e niente questo è quanto per oggi noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao ciao Grazie a tutti.